Oggi giornata di zucche, vi porteremo a scoprire uno dei più belli allestimenti che abbiamo fatto qui all'NH Collection Vittorio Veneto a Roma. Seguiteci! Halloween non è solo streghe e fantasmi, come diciamo siamo abituati a vederla, ma è anche un'occasione per giocare con i colori caldi, texture naturali, per creare atmosfere suggestive e anche un po' misteriose. Come state vedendo, per questo allestimento abbiamo scelto una palette di colori che richiama il tramonto autunnale, con fiori arancioni, anche dei bordeaux, rami secchi, qualche tocco di nero per aggiungere quel tocco di mistero. Questo è l'allestimento che abbiamo realizzato per l'NH Collection per far sentire i loro ospiti in un mondo incantato di zucche, candele, scope. I dettagli fanno la differenza. Abbiamo inserito candele per creare luci ed ombre, fiori più scuri e fiori più chiari, arancio, forte e piccole zucche, anche per mantenere quel tocco classico di Halloween. Spero che quello che vi abbiamo fatto vedere oggi vi sia piaciuto. Grazie perché siete sempre veramente tanti a seguirci e a darci gli stimoli per farvi vedere sempre di più dei nostri allestimenti futuri. Seguiteci perché a presto vedrete anche i nostri allestimenti di Natale. Grazie. Grazie.